Mi viene da dire The pen is on the table Ciao ragazzi Ciao ragazzi Come avrete intuito dalla copertina Siamo davanti al ristorante numero 1 al mondo Benvenuti al Doma Dicevamo Sì prendiamo un tono da tre stelle Michelin È un sogno che si avvera ragazzi Volevamo venire qua da una vita Tutto è cominciato una decina d'anni fa Quando abbiamo conosciuto René Rezepi Cioè non è che l'abbiamo conosciuto di persona Magari L'abbiamo conosciuto su libri Abbiamo provato a prenotare qua ragazzi ogni anno Quest'anno abbiamo detto Sai che c'è? Mettiamoci nella waiting list Vediamo che cosa accade tanto figurati E invece ci arriva la mail Siamo liberati due posti la sera del nostro anniversario di matrimonio Cioè stasera è incredibile o no? E quindi pieni di entusiasmo Abbiamo prenotato Senza tener conto per niente di una cosa Il prezzo Piccolo del taglio Sì ragazzi Non stavamo più pensando al fatto che questo posto era un po' troppo fuori le nostre tasche E quindi ragazzi eravamo lì lì per annullare la nostra prenotazione Ma qualcuno si è offerto di sponsorizzare questo episodio E quel qualcuno è un brand che conosciamo Che usiamo E che quindi siamo anche felicissimi di sponsorizzare Ci è andata proprio a cecio Quindi ragazzi è giunto il momento di parlarvi un po' di NordVPN Una VPN è un servizio che vi permette innanzitutto di navigare in internet in tutta sicurezza E poi di fare anche un sacco di altre belle cosine E NordVPN è semplicemente il miglior VPN in circolazione Io e Ale usiamo già questa app da diverso tempo Ad esempio per navigare in sicurezza quando usiamo il wifi open degli aeroporti Senza il pericolo che i nostri dati vengano carpiti Il pericolo è che soprattutto quando il wifi è open è abbastanza elevato Ma noi cara usiamo NordVPN anche e soprattutto Per lo streaming Ad esempio per dirne una Noi ogni sera ci guardiamo almeno una puntatina di Griffin Ma è fantastico Peccato però che sul catalogo Netflix da rimarca I Griffin non ci siano Purtroppo non c'è soluzione a questo problema Ma ora ce n'è una Grazie a NordVPN possiamo connetterci a un server in Italia E magicamente guardare la nostra serie preferita Come se fossimo in Italia Ma la cosa più figa di NordVPN è che è facile da usare Ma sa usare anche Fabrizio Esatto ragazzi se ho imparato io ce la potete fare tutti Basta cliccare su quick connect E ora posso navigare in tutta sicurezza Se voglio connettermi al server di un'altra nazione Basta muoversi all'interno della mappa E cliccare qui Facile no? Se andate su nordvpn.com slash foodies Abbiamo il link capito? Potete ottenere NordVPN da un prezzo stracciato Per il piano di due anni più bonus aggiuntivo Se cliccate sul nostro link avrete anche 30 giorni di soddisfatti o rimborsati Per provare il servizio senza rischi E solo perché siete degli appassionati foodies Voi intanto ragazzi cliccate sul link che vi lasciamo in descrizione Noi andiamo a cambiarci E tra poco vi portiamo a mangiare Al Noma Se non fosse per il fatto che quando arrivate Ci sono un paio di ragazzi del Noma ad aspettarvi Credereste di aver sbagliato indirizzo Perché praticamente non c'è neanche l'insegna Noma Ci sono solo una serie infinita di serre Che in realtà ospitano i vari laboratori Che circondano le cucine del Noma Incredibile Che in realtà ospitano le cucine del Noma Volevo far vedere la tua espressione Ce l'ho fatta Io lo vedo come un mio persona a traguardo Essere arrivato qui Sposato con Alessio Odoardi Seduto al tavolino del Noma Due cose che ho fatto nella vita Ho fatte a posto Siamo già dentro e non vi abbiamo filmato l'ingresso Perché quando entrate passate di fronte alla cucina Che è ovviamente open Ci sono tutti che vi salutano Che vi accorgono E sembrava che tutto lo staff stesse qua per noi E quindi mi sono emozionato Non ho ripreso nulla ragazzi Perché sono rimasto Quando non ho in mano io la telecamera Ragazzi voi non vedete niente Ci hanno portato già come aperitivo Un succo di mela cotogna e polline E questo cestino Prima di tutto benvenuti Grazie La prima portata Una crema cotta a base di cervello di renna Dell'alga kombu Brasata E del gel di fagiano Buona felicità Grazie Grazie Ale è buonissimo La consistenza ragazzi è una roba spaziale Sembra di mordere un pezzo di bosco Non vi fate spaventare dalle descrizioni in questi posti Qua la materia prima più spaventosa sulla carta Ovviamente al ristorante numero uno del mondo La sapranno trasformare in qualcosa di delizioso Questo è già probabilmente Una delle cose più buone che ho mangiato in vita mia Ed è l'appetizer Incredibile Guardate la crema sotto Mela cotogna e polline Allora non solo è buonissimo E tra l'altro c'è un reto gusto di miele Di polline appena scende giù Che è una figata pazzesca Ma quanto è buono insieme a quello che abbiamo appena mangiato Avete sentito mai che mela cotogna e polline Vanno bene con fagiano e renna? Sì Continuiamo con una rosa spina con coriandolo e prezzemolo A fianco una prugna disidratata Con olio ai fieri di sambuco e polline Ragazzi io entro in questo giardino È buonissimo La ciclo è il gusto più forte che c'è È un po' una caramella È erbaceo Wow Questa prugna vi fa veramente scoppiare il cervello È una specie di umeboshi In giapponese ma alla nordica Con questo olio di sambuco che gli dà un tocco delicatissimo È buonissimo Abbiamo optato per un juice pairing Faremo un abbinamento di soli succhi Invece di fare il wine pairing Nello specifico adesso è arrivata un succo di alga e tè nero affumicato Tutto quanto sono contento È incredibile C'è questo sadi Bianca nori del sushi Mamma mia Sadite Tutti e due si sentono perfettamente Siccome questi due gusti li ho assaggiati in vita mia Il mio cervello li riconosce Però poi fa cortocircuito perché dice Ma perché li sto registrando insieme questi due sapori È buono Buono ragazzi È buono Continuiamo con un uomo di quaglia Della polvere di porcino Del mirtillo rosso A fianco un sandwich a base di origano messicano E tartufo Faccio un unico boccone C'è l'amaro C'è l'affumicato E un falò nel bosco Un sandwich di origano messicano Che è gigante Non so se lo vedete È fighissimo L'origano e il tartufo Dove venire a Copenhagen Per scoprire che si abbinano bene insieme Spettacolare Allora ragazzi Qui al Noma ci sono tre stagioni Non ce ne sono quattro C'è la stagione del seafood Cioè la stagione del pesce e dei frutti di mare La stagione della primavera In cui questo ristorante diventa un ristorante vegetariano È la stagione in cui siamo adesso Che è la stagione della game meat Cioè della cacciagione del bosco Non ci siamo dimenticati di farvi vedere il menù Perché il menù non ce l'hanno portato Qui arriva roba random E voi mangiate Continuiamo davanti a voi Avete uno spiedino Fatto di cinghiale fermentato Delle castagne arrostite È un raviolo fatto di foglie di nasturzio E rosa spina Quella gialla in fronte a voi È una mela cotogna giapponese Da spremere sopra come fosse un limone A fianco avete dei funghi Vengono chiamati qui in Danimarca Hand of the wood Crescono negli alberi direttamente Vengono cotti al barbecue Poi serviti con del pepe di Madagascar E dell'olio a basi rosa Non ho mai mangiato del cinghiale fermentato Si sente bene il selvatico Ma non è aggressivo Non è forte Non dà fastidio In bocca è cremoso Si scioglie La nespola giapponese Che abbiamo spremuto sopra Gli dà un tocco di acidità fantastico E al primo morso Ale Sono tornato a Nagano Quando siamo andati a fare quella cena Di cacciagione giapponese Ti ricordi? Quello hot pot di cinghiale E cervo Mi ha ricordato quel piatto lì Ovviamente all'ennesima potenza Mille volte più buono Andiamo di fungo Questo fungo è nuovo sotto qualsiasi aspetto È molto delicato La consistenza è diversa da altri funghi che ho assaggiato Il tocco di pepe del Madagascar Gli dà quella spinta che è perfetta È una buona atmosferica So for a couple of servings to come We have kombucha That's made with smoked chanterelle mushrooms Then infused a little bit with a variety of chili Called ancho chili And this is something that we use quite a lot When we did a pop-up in Mexico A few years ago It doesn't have so much Actual spice But it's got a lot of smoky flavor And umami to it Difficile da spiegare È come il succo di pesca Ai funghi Sì, profumo Giuro Allora, stavo prendendo Ale per matta Invece c'è ragione Mi dovete spiegare perché La kombucha di funghi Meschiata con il peperoncino ancho Al naso Ricorda il succo di pesca Ma è incredibile È incredibile È soltanto il santora del fungo Non è piccante Si sente però affumicato In maniera molto molto dedicata Buonissimo Allora ragazzi Noi siamo fan di René Da sempre Molti di voi lo sapranno già Ma per chi non lo sapesse Il Noma è stato per quattro volte Il ristorante numero uno al mondo Adesso negli ultimi anni Nella Best Fifties C'è una nuova regola Che chi diventa il numero uno Va a finire nella Best of the Best E quindi non può essere più votato Se non che Rezepi ha aperto Il Noma in una seconda location Quindi tecnicamente era un altro ristorante E ha vinto pure con questa Cosa curiosa A Copenhagen c'è anche il numero due del mondo Il geranium Quindi possiamo tranquillamente dire Che in questo momento Nel 2021 Copenhagen è il centro della gastronomia mondiale Però noi siamo fan di Rezepi Perché lui ha inventato La nuova cucina nordica Ha ridefinito da zero I canoni dell'alta cucina Di questa parte del mondo In cui prima che arrivasse lui Quando si parlava di alta cucina Ci si riferiva sempre a modelli francesi o italiani Io sono stato qua venti anni fa Non c'era un ristorante danese Veramente di altissimo livello La sua intuizione è stata quella di dire Proviamo a sfruttare quello che abbiamo noi qua Nei dintorni Ha cominciato a cucinare col muschio Con i prodotti del bosco Con la renna Con l'alce Con l'orso Con qualsiasi cosa trovassero da queste parti E ha rivoluzionato un'intera cucina Quindi non solo quella del suo ristorante La cucina di Copenhagen La cucina dell'Ada di Marca E tutta la cucina della Scandinavia Adesso deve qualcosa a Renere Zeppi Ecco perché siamo qua L'atmosfera qui dentro è molto diversa da come ve l'aspettereste Spesso nei ristoranti stellati c'è silenzio Si parla in maniera sommessa C'è anche un po' di rigidità Qui invece è come essere, non lo so, a cena con degli amici Anche il modo di porsi dei camerieri è veramente molto friendly E' proprio un'atmosfera bellissima Continuiamo con una zuppa di mela marinata nel legno di Ribes Nero Come si fa a rendere eccezionale una mela? Si sente nettissimo il sapore del cardamomo Che è il coriandolo La botta di acidità appena arriva in bocca E' un fulmine e c'è il sereno Ogni cucchiaiata è diversa Perché secondo le foglioline che vi capitano in bocca Questo piatto cambia Rezepi oltre che essere l'innovatore che è È stato anche un riscopritore di quello che adesso con un termine moderno si chiama foraging Andare per i boschi, per i campi e raccogliere quello che la natura ci dà E provare a trasformarlo in cucina È una pratica che adesso è molto popolare in tutto il mondo Però io devo dire che il foraging mia nonna lo fa da sempre Se è la prima volta che vedete un nostro video Vi consiglio assolutamente di andare a vedere la playlist dedicata a Nonna Emilia Così scoprite il personaggio E io e Ale ogni volta che possiamo in primavera andiamo con Nonna A spasso per le colline che circondano la casa nostra Perché la roba che noi calpesteremmo Nonna la guarda in terra e dice Quello si mangia Quello si può mangiare crudo Quello si può mangiare bollito Quindi no Tu stavi avanti e non lo sapevi Qui abbiamo un servizio di bianchi Che sono cotti con l'olio di rosso E lo serviamo con planti freschi, calabarie Subito arriva la motta terrosa della torpa pietola Poi arriva un po' di dolce del Rives O di qualsiasi cosa sia C'è l'acidità della prugna È un piatto che arriva a strati E quanto sta bene con la kombucha di funghi e peperoncino La botta di vita ragazzi staserata Beh, mi viene da dire The pen is on the table Ve lo ripeto Questo è pene di renna Cereali indanesi E caviale Questo piatto si inserisce nella filosofia di Renè Che è quella dello spreco zero Del usare tutte le parti possibili dell'animale Filosofia che per fortuna è molto diffusa Tra gli chef di tutte le categorie L'ultima volta abbiamo parlato di questa tendenza Quando siamo andati a mangiare dal nostro nicolomito Che ad esempio della carota Ha ricavato anche un estratto dalle foglie Perché neanche le foglie della carota si buttano Ci ha spiegato il cameriere Che ci hanno messo diversi anni A trovare il giusto modo Per esaltare questo prodotto abbastanza particolare A questo punto il fatto che sia accompagnato Da un succo di prugna E angelica va in secondo piano Ma come si fa? Come si fa? Il gioco delle consistenze in bocca è fantastico Scusa ma è difficile Qualunque parola usi Non riusciamo a rimanere serie Nel descrivere questo piatto Ma fidatevi E' veramente una delle cose più buone Abbiamo mangiato in vita nostra Ci sono 3-4 consistenze diverse Il caviale che vi esplode in bocca Il croccante dei cereali La consistenza fantastica di questo ragù di renna E poi c'è la bellezza del fatto che si mischi Il selvatico della renna Con il pescioso del caviale E tutto insieme E' una roba ragazzi E' indescrivibile Prendete questo commento Come è buono per tutti i prossimi piatti Perché così sarà E' buono Ma proprio buono 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 Del koji abbiamo appreso in Giappone E' il fungo che viene usato Nella saccarificazione del riso Per fare il sake Wow Sono Angela La cosa più importante da dire Che l'assaggio è mio Posso assaggiare una stabbava Così, absolute Oh, quanto è buono Di che stai? Ti caccio Come ti caccio? Oh, Santa Paletta Che cos'è questo piatto? C'è tutto C'è l'umami C'è il dolce E poi, cavolo Da quel sentore di amarognolo Un piatto completo Ragazzi, finora vi giuro Ve lo diremmo Se ci fosse un piatto Che non ci è piaciuto Anche se siamo al numero uno del mondo Se qualcosina ci dovesse piacere Un po' di meno Ve lo dicessimo Ve lo dicessimo Ah, congiuntivo Sì Ve lo diremmo Ma qua Finora l'astricella E' partita da dieci E non è scesa mai So, as part of the juice pairing Now, we have some warm tea Made of a blend of rooibos Which is a South African tea Together with a Japanese green tea That's called pochicha Oh my god, what is this? It's a little serving of a dumpling Made with bear Oh, rabbia Nowhere Yeah The pastry is fried In the fat of the bear And then inside of it Is a bear stock And some different herbs On top is a crispy duck skin And then you finish off With what is on the spoon That is a bit of a bear caramel Bear caramel is in essence Reduce stock You keep reducing it Reducing it Reducing it And then at the end All the sugars will caramelize And turn into a kind of caramel Dentro è morbidissimo È croccante fuori Selvarico Salato C'è anche un po' di dolce Che bilancia il tutto Ma di che salo? L'orso L'orso l'abbiamo già assaggiato In Slovenia Quella volta era un progetto d'orso Quindi una vaga idea Del sapore di orso Lo sappiamo A me ricorda di più Il cervo o l'alce Che abbiamo assaggiato In Canada Che è il cinghiare per dire Sono curiosissimo Del caramello d'orso All'inizio sa veramente di caramello Perché qui non c'è zucchero Quello che mi diceva il ragazzo È solo concentrato Di consomme d'orso Quindi all'inizio Arriva la botta di dolce E poi c'è questo selvatico Che completa questo boccone Una nota d'obbligo Qui come in Slovenia L'orso si può cacciare Ce ne sono in abbondanza Ovviamente tutto quello Che riguarda il mondo della carne E alla selvaggina ancora di più Offre un sacco di spunti Di dibattito E tutte le posizioni Sono condivisibili Però giusto per correttezza Qua l'orso si può cacciare Come un altro tipo di selvaggina Non pensate insomma All'orso yogi Ho quei poveri 50 orsi marsigani Che sono rimasti Delle parti nostre Che sono super potenti E è giusto che sia così Ci vediamo Slowberry And blueberry Se verrete al nome Vi straconsigliamo Di fare l'abbinamento Con i succhi Perché è veramente Strabiliante Quello che riuscite Ad assaggiare Quello che riescono a fare Qui con i vari frutti Veramente interessante Continuiamo con Uno dei piatti forti Che è il cervello Dell'anatra E la zampetta fritta Il cervello dell'anatra Viene dolcemente cotto In padella con un po' di burro E l'ultimo limone Poi finito con un po' di olio Di ancio chili La zampetta fritta Viene condita Con un pesto di formiche E dell'olio A base di legno Di mirtillo Non ci credo Vi consiglio di mangiarlo Prendendo il pecco dell'anatra E invece prendere la zampa E mangiarla La parte solo finale Della zampa Ma è un pesto di formiche? Come sta mangiando? È con l'aggiunta Questa è la scarpa Con l'aggiunta di lievito Olio Dal legno di mirtillo Del fermentato A base di piselli gialli C'è del ginepro Dei semi di finocchio Dei semi di coriandolo E le formiche Cioè si fa presto a dire formiche Sì esatto Cioè io ho una testa d'anatra Messo per mangiare il cervello Con un cucchiaino Ah il dessert Mmm Ti vedo perplessa Raramente ti vedo perplessa per qualcosa Ce la farò? Ce la farai Se adesso vi dici che ti piace pure questo È buono È a metà Tra fegato cotto E fuo gras Però è molto più burroso del fuo gras È buono Ma dai Una zampa d'anatra Condita con un pesto di formiche Oddio quanto mi piace questo posto E qua È più buono del cervello? Non è più buono del cervello È come dire È più buono il gelato O la fiorentina Sono due cose talmente lontane tra di loro Nonostante vengano dallo stesso animale Allora qui c'è Croccantezza Un sapore indefinito Un leggero pizzicorio sulla lingua Che così la butto lì Ma potrebbe essere dato dall'acido formico Delle formiche Un mix di sapori Mai provati E noi ragazzi un pochino Il mondo l'abbiamo girato Non è neanche la prima volta Che mangiamo le formiche Ma così Come va la serata signora? La serata è incredibile L'informalità che c'è qui dentro Ti mette proprio il tuo agio Chi è in sala È così bravo A farti sentire parte del tutto È tutto un fuga molto bello L'anatra L'anatra selvaggia È un sandwich di spinaccio e tortufo La pelle croccante È una piuma fatta di castagne Nocciole E grano saracena La salsa è a base di funghi Burro nocciole A fianco è un contorno Tutto a base di pino Delle noci Delle nocciole Dell'olio a base di pino Aceto a base di pino Acetosella E un pezzo di pera Fantastico! Ti lascio la salsa a tavola Gratito un po' di pane Anza Beh se avanza Grazie Il profumo ragazzi Che arriva da questa Salsetta è una roba Wow Cottura perfetta Papelle croccante Ciao Il pronto di funghi Gli dà una spinta verso Verso l'infinito E oltre Potremmo avere Qui in questo piatto La migliore anatra della mia vita Guardate sul retro Sta più una fatta di nocciole Anche ancora qui In alto pochi tartufo Mamma mia Nocciolosa Tartufosa Burrosa Questo è un grandissimo piatto Questo piattino E un dipinto Sembra di mordere un pino E il mix di sapori Che è incredibile Allora ragazzi Siamo riusciti A farci portare Il pane Per fare la scarpetta Pure all'uomo Guardate qua Quanta grazia di Dio Non si può lasciare Guardate che bontà E un congiuntato di sapori Sta salsa Che mi faccio imbottigliare Quello che è rimasto nel pentolino Me lo porto a casa Guardate sto burro salato Mmm Mmm Vero! Questo è il famoso effetto spugna. Ragazzi l'abbiamo trovato anche da Re Rezzelli, anche al nome di Kopenhagen. In questo caso possiamo effettuare esattamente quello che una spugna richiederebbe, cioè non mangiarla ma sorvirla e basta. È proprio acidula che è il sapore, dici così, del sommacco e la sensazione è stravigliante. Ah ci vuole la doppia ripresa anche qui? Sì sì, assolutamente. Esatto. Non te l'aspetti. È limonoso, è fungoso. Abbiamo provato a berlo senza sommacco, così direttamente dalla ciotola. È completamente un altro piatto. La giugnalata è proprio unire queste due cose così diverse. Fantastico. Pensavo... Aia! A quanto bene può fare questo posto a Kopenhagen? E quanto bene fanno questo tipo di locali nei posti dove nascono? Spesso questo tipo di ristoranti, perlomeno da una parte delle persone, è criticata, che si spende un sacco di soldi, solo delle storie perché i piatti sono grandi, le porzioni sono piccole, tutta una serie di cose ormai vecchie. Però pensate solo a quanto fanno per l'economia nei posti dove nascono. Pensa a quante vacanze abbiamo fatto io e te partendo da un solo posto e costruendo la vacanza all'attorno. Sì, è praticamente la storia della nostra vita. Ad esempio noi abbiamo visitato la Slovenia perché volevamo andare da Naros. Pensate a quanta gente è venuta e verrà in Abruzzo perché c'è Nicoramito. Noi stiamo facendo una vacanza a Kopenhagen di diversi giorni perché volevamo venire qua. Quindi questi ristoranti, è vero che si possono criticare tante cose, ma fanno anche un sacco di bene. Non solo a chi ci lavora e a chi come noi ci viene a mangiare. Fanno bene a tutta l'economia della città. Cosa è questo? Allora, voi stanno passando in questa parte del menù. E il vostro deserto sarà basato su questo. È scoby. Ah, scoby! Sì, la madre della kombucha. È essenzialmente una struttura cellulosa che si tratta di lieci e bactere e tratta il tiglio con il zucchero in kombucha. È una cosa vivente. Scoby, scoby! Tutto bene? La banana trattava bene. Non c'è stata mezza portata che non mi prego. Più meglio. Continuiamo con il primo dessert. È un gelato a base di siro di latte, origano messicano, olio di legno di mirtillo e lo scoby. Ci è arrivato un succo di... Camemoro. Camemoro. Che si chiama in inglese? Clowberry. Clowberry. Non ti ricorda? Nulla che ho mangiato in vita mia. Questo è il buck trim. È un dolce non dolce. Ma molto non dolce. Però è buonissimo. Secondo me senza questa fogliolina di origano non sarebbe la stessa cosa. Gli dà uno sprint di erbaceo, un po' di piccantezza, veramente fede. Che anniversario. Continuiamo con un gelato di zafferano del cioccolato messicano. Una salsa a base di semi di papavero, liquirizia e dell'aceto colsami. Zafferano, liquirizia. Se non lo stessimo mangiando a Copenaghen, questo piatto potrebbe essere stato inventato benissimo da uno chef abruzzese. Abbiamo fatto un bellissimo episodio sullo zafferano di Navelli e un altro bellissimo episodio sulla liquirizia di Atri. Li trovate entrambi nella nostra playlist Viaggio in Abruzzo. Ma torniamo a questo dolce che è servito in una ciotola fatta di cera d'api, a sua volta appoggiata su un fiore secco, a sua volta appoggiato su un cestino di foglie che al mercato mio padre comprò. Pensavo fosse tutto super cremoso, invece... Non lo è? No! È crancido. Guarda, guarda, te lo giro, guarda. Ci sono gli strati di liquirizia dentro. O forse la liquirizia è quella sopra e dentro sono gli strati di cioccolato. Guarda, questo dolce mi fa tornare a casa. Sta proprio da Abruzzo, sto dolce. Benissimo. È un omaggio che René Rezepi ha voluto fare a noi di Where the Food is Go. Che ci conosce benissimo, ci sentiamo sempre... Ma sì, tutti i giorni. Tutti i giorni con René. Te ne consigli. Grazie René. Eccezionale. Zafferano. Ma si sente? Viene coperto per niente? Neanche dall'aceto? No. Si sentono delle piccole puntine di acido che puliscono il palato. Si sentono bene tutte le quattro delle cose principali. Zafferano che sicuramente sarà quello di Navelli. Siamo al numero uno del mondo, quindi per forza lo zafferano di Navelli. La liquirizia ci sta da Dio. La cioccolata, crunchy, è una bomba ragazzi. Questo è un grandissimo piatto. Abbiamo un altro per voi, che è il chocolate bianco di bianco, il bone marrow del reindeer, le flore di frate e i piccoli blu. E siccome René dice che se butta niente, noi mangiamo anche il midollo di Renna. Dove? Nel dessert. E guarda, il dolce è qui. Il midollo l'abbiamo assaggiato in tante salse. Mamma nel dessert. Soprattutto quello di Renna. Di che saprà il midollo di Renna? Sono indecisa se è una cioccolata midollosa o un midollo cioccolatoso. Buono. Ragazzi, buono da esplodere il cervello. Anzi, posso dire una cosa? È buono fino al midollo. Devo dire che 15 anni insieme a me ti hanno fatto peggiorate con le battute. Si, mi hanno rovinato. Stai diventando molto famiglia. Comunque buonissimo. Questo è uno dei dolci più buoni che ho mangiato. Sto mangiando dentro un osso. Ma benedetto il cielo. Che è questo? Buon anniversario. Nooo. Grazie. Ma grazie. Una mousse al cioccolato. O dello zafferano. Ma dai, grazie. C'è un'altra torta, ragazzi, al noma. No, senza parole. E' pure buonissima mousse. E' un regalo stupendo. Grazie, ragazzi. Signorina, i suoi pensieri su questa serata. E' difficile descrivere a parole questa sera. Allora, per me è stata forse la serata più divertente da quando frequentiamo questo tipo di locali. Un livello di cucina da primo nel mondo, vogliamo dire così? Così, dai, diciamolo. Me ne abbiamo parlato anche in altri video. Questa classifica non è numerica per quanto ci riguarda. Non è che al numero 2 si mangia peggio dell'1. Ma neanche il 50. E anche il 50. Però devo dire che veramente la cucina di René Rezepi è di un altro pianeta. Un po' perché i sapori della cucina nordica, noi due quantomeno, non li conoscevamo così tanto. E quindi ci stupisce la qualunque. Ma sono sicuro che anche se li avessimo conosciuti saremo rimasti esterrefatti. E che qua il livello tecnico è di una... Imbarazzante. Brava, è imbarazzante. E' stata una di quelle esperienze che ci ricorderemo probabilmente nei secoli... No, no, sono certi. Togli probabilmente. Parliamo del prezzo. Ovviamente qua non costa poco. Sì, non so spicci. Anzi, vogliamo dire ancora una volta. Grazie NordVPN che ci hai permesso di fare questo episodio perché sennò... Solo con le nostre forze non ce l'avremmo mangiata. Non ce l'avremmo fatta, diciamo la verità. Abbiamo potuto realizzare un sogno che inseguivamo da tempo. Dicevamo non costa poco. Abbiamo fatto un pairing di succhi, non di vino. Uno solo, non due. Ma probabilmente quello che vi state chiedendo tutti e che ci chiedevamo pure noi prima è... Vale la pena spendere questi soldi? Assolutamente sì. Se siete amanti del cibo ne vale assolutamente la pena. Se per voi il ricordo di un'esperienza gastronomica non ha prezzo... Ecco, ce l'ha un prezzo, è quello del Nomad. Cambio postazione. Mi fa male il braccio a tenere la macchinetta. Poi ragazzi c'è la torta con la candelina perché era il nostro anniversario. Io sono senza parole. Cioè al Nomad la sera del nostro anniversario ci hanno regalato una tortina. Il ristorante più buono del mondo. Grazie. Posso dire un'ultima cosa? Sì. Che se non fosse stato per YouTube questa esperienza magari l'avremmo rimandata all'infinito. Eh sì. E quindi siamo molto felici che voi guardiate i nostri video e soprattutto che vi piacciono. E quindi se siete capitati per puro caso sul nostro canale, se volete iscrivervi. Mettetelo un mi piace. Noi siamo felicissimi. Abbiamo portato al Noma. Qui comincia tra l'altro ragazzi la nostra serie su Copenaghen. A partire da domani cercheremo di farvi conoscere un po' di più la cucina di questo paese, i suoi abitanti e un pochettino del loro modo di vivere. Buonanotte. 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 Ciao. Ciao. Ciao.